Poi ragazzi, cioè ma è possibile che staccando solo la spine del decoder mi si azzera il decoder e mi si cancellano tutti i canali? Comunque buonasera Lei ha le prese con i panni Tanti tanti panni Pani? Spani? Spani Eh, da oggi che sto facendo ricerche su ricerche su ricerche e metti questo satellite e metti quest'altro Mamma mia Sempre arrabbiato, sempre arrabbiato Sempre arrabbiato Neanche take me out come stasera Che tra le cose che vediamo durante il giorno è la cosa più importante, giusto? Take me out, si quel deficiente che si elettrizza quando presenta perchè l'ascensore è pieno Ragazzi è libero Eh si No, è libero Fatti vedere Eh Vedremo, vedremo Vedremo, vedremo Vedremo Scusate Eh? Che cose che vede ormai Se hai qualche linee che devono fare devono sempre Ma io credo che ci sia qualche problema di parabola Cioè nel senso No, lo sintonizzi Però come 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 posso dire Come se non riesci a percepire il segnale è su hot beer 13 gradi a est basta solo quello ok ragazzi pane mamma mia stiamo vedendo un film su internet e come si chiama? innamorato del mio amico sarebbe questa qua che si chiama Lolita Lola questo è l'amico e questi sono i panini come si fidatta adesso? ragazzi dovete sapere che Lili è venuto prepotente sotto nei nostri video ci ha alzato i piedi e si è messa lì allora stavamo io con i piedi in tensione così perchè se no la pestavo lui si è messo con i piedi in tensione no aspetta aspetta no se dici la pestavo è brutto no la pestavo praticamente tu devi sapere che Lili di prepotenza ti spazza si fa spazio lei non è che dice vabbè i piedi li appoggio o li metto sotto di lei no? no perchè li da fastidio no? li da fastidio ti arrabbia si arrabbia inizia a fare togliti ricordate il video di quest'estate che per accarezzare il cane con i piedi che dice che bella vita da cani mi sferro un muro sta dormendo però sai che stiamo mangiando e lei deve tentare di mangiare va bene noi continuiamo a vedere il film e quindi ora che se n'è andato ho detto approfittiamo e abbassiamo il film perchè non siamo in pensione così l'unica cosa a nota positiva è che a piedi nudi il parco è caldo dopo che si trovi lì ok dai buon appetito ragazzi buon appetito ragazzi buonanotte che ciupi guardate sei nascosto è tipo scogliata sotto coperto così dormo d'inverno d'inverno logicamente d'estate no assumo tutt'altra posizione serve con lenzuolo però chi le chi le ha questo la comunque ragazzi siamo qui al termine di questo favoloso video dove io vi accompagno in una dolce notte vi accompagno io mano per mano mano per mano mano per mano a fare dei sogni fantastici a fare i sogni che mi racconti che fai tu guarda proprio i sogni fantastici ti racconto uno no 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 guardate che pello è schifo che fuoriesce dalla maglietta e beh ha detto Ettore ah comunque saluto Vincenzo Raspaolo eh ha detto Ettore che anche a lui se dovesse essere una donna darebbe fastidio se il partner lo dovesse baciare con i baffi allora lui ha detto io ergo che a Lucia non piace che tu abbia i baffi eh infatti perché te li fai? però Ettore ora tu dimmi a me ho avuto una lopecia areata dove ho perso parte dei capelli e parte della barba ora che mi sta crescendo non dico tutto ma eh che dici? che dici? i capelli o che? ormai sono proprio alla che me ne frega eh che te lo dovevo fare te li dovevo aggiustare guarda con quel ciuffo così che ti stai facendo adesso e quei baffi Gomorra ti fa un baffo però Gomorra ho detto ma ma madò che poi ho fatto una scoperta che l'ha pubblicata pure lei che dal 23 io inizia di nuovo Made in Sud ah cioè no non l'ho pubblicata ho messo in piano non l'hai proprio condiviso nooo madò madò Made in Sud inizia di nuovo che pupo che sei? come no? vabbò ragazzi il video termina qui iscrivetevi commentate e condividete mentre non mi piace e vi cerchi che vi do la buonanotte con l'asa ciao ciao ciao